Ciao, sono Stefano e sono un'alcolizzata. Allora, adesso abbiamo la proiezione del film Stonewall che mi preve di ricordare e spiega a tutte com'è nato, a tutti, com'è nato il movimento di liberazione omosessuale, di rivolta a New York nel 69 in modo che voi possiate spiegare a tutti quelli che rompono le scatole con la storia del Pride come pagliacciata, com'è nato, è una tradizione, ce l'avevamo nel video, quindi siamo a posto. Vorrei ringraziare ancora Luca Nessantis che è stato con noi a presentare i suoi due libri, in Italia sono tutti maschi e videogames, in anteprima direi il corso italiano. E vi ricordo anche i prossimi appuntamenti della Quilesima. Domani ci sarà la manifestazione a sassa dei diritti al cuore. Qui vi dicono una manifestazione contro l'omofobia, razzismo, ossessismo organizzata dal M.O.S., dal Movimento dell'Ossessuale Salto. Il 28 giugno alle 19 la presentazione del libro La vera storia dei miei capelli bianchi di Paola Concia, ospitata dal B.D., che sarà in piazza Sansepolcro alle ore 19. Il 29 giugno abbiamo lo spettacolo Tantraelli, ferai teatro, Porno gay, porno gay, al Go Fish New Concert alle 20.30, right? E poi chiuderemo il 30 giugno al Poeto con il primo Fright Sardo, e vi vogliamo vedere tutte. Quindi partirei col film. Grazie ancora. Grazie. Grazie.